Come accidenti è possibile che il mio smartphone faccia fotografie migliori della mia macchina fotografica pagata fior di soldi? Ebbene oggi sono qui a spiegarvi il perché di uno dei misteri più antichi della fotografia digitale. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale, io sono Cesare e oggi andrò a spiegarvi come mai nel momento in cui andiamo a realizzare una fotografia con una fotocamera anche professionale e con il nostro smartphone, spesso e volentieri ricaviamo dei risultati migliori proprio da quest'ultimo. Questa è una cosa molto fastidiosa soprattutto se operiamo in ambito professionale perché capita molto spesso anche a me di sentirmi dire dal mio cliente ma a me col cellulare viene questa cosa e molto spesso io devo rispondere al mio cliente guarda questa cosa io non te la posso fare, questa cosa a me non viene in queste condizioni di illuminazione, questa cosa come me la stai chiedendo tu io non sono in grado di fartela professionalmente, posso fartela con l'iPhone ma questo non glielo dico neanche al cliente perché a quel punto il cliente direbbe me la faccio da solo, invece bisogna cercare di proporgli un'altra soluzione. Ma perché il nostro smartphone spesso e volentieri fa delle fotografie migliori di quello che riusciamo a tirare fuori dalla nostra fotocamera pagata una fracca assurda di soldi? Innanzitutto cerchiamo di avere ben chiara una cosa, stiamo parlando di uno smartphone, abbiamo presente cos'è uno smartphone, è un dispositivo piatto con dentro un sensore grande come l'unghia del nostro mignolo che serve prevalentemente per inviarci meme e foto di gattini. Mentre la fotocamera è un oggetto grande, ingombrante e costoso che contiene un sensore grande almeno, ma almeno come una moneta da 2 euro, quindi una differenza di dimensioni notevole abbiamo anche un peso molto diverso dai file che ricaviamo da questi due dispositivi. Infatti se le fotografie che escono dal nostro smartphone probabilmente saranno intorno ai 12 megapixel e quindi avranno un certo peso, i file che escono dalla nostra fotocamera invece potrebbero essere di 30 megapixel e quindi potrebbero pesare diciamo due volte di più, probabilmente anche più di due volte, però sicuramente potranno pesare molto di più di quelle che escono dalla smartphone. Inoltre quello che esce dallo smartphone di solito è un JPEG, quello che esce dalla fotocamera di solito è un RAW. Diciamo che se una fotografia che esce dal cellulare pesa, facciamo 5 megabyte, una fotografia che esce da una fotocamera può pesarne tranquillamente 30, 40, 60, talvolta anche 80, quindi stiamo parlando di una quantità di informazioni ben diversa. Ora nel momento in cui facciamo una foto con il nostro iPhone oltretutto abbiamo un vantaggio, un vantaggio che voglio farvi vedere. Ora vedete che nel momento in cui io vado ad aprire le opzioni della mia fotocamera e videocamera, qui c'è tutta una serie di cose, l'ultima cosa qui in fondo vedete Smart HDR, fondamentalmente Smart HDR miscela intelligentemente le parti migliori di esposizioni separate in una singola foto. Questo che cosa significa? Fondamentalmente il nostro smartphone fa dei file più piccoli, più leggeri e quindi nel tempo che noi scattiamo una foto il nostro smartphone ne fa più di una di foto. Fa diverse esposizioni per cui prende un'esposizione per avere il cielo, un'esposizione per avere la terra, un'esposizione per avere le persone, fa tutto separatamente perché tanto i file pesano poco, il processore dello smartphone è comunque molto rapido e quindi riesce a fare questa cattura multipla contemporaneamente per cui ci restituisce un'immagine che ha dei colori più vicini a quello che noi percepiamo con i nostri occhi. Viceversa quando noi scattiamo con una fotocamera la fotocamera non fa questo ragionamento in automatico perché la fotocamera è uno strumento professionale che da un lato prevede di essere utilizzata da persone che sanno quello che fanno e quindi che se vogliono raggiungere quel risultato lo fanno in un altro modo. Dall'altro lato il sensore di una macchina fotografica professionale ma anche non deve per forza avere una pretesa di coerenza. Nel momento in cui io vado a fare una foto con una strumentazione professionale ci deve essere una coerenza tra le varie parti dell'immagine quindi se c'è una parte con un certo tipo di illuminazione e un'altra parte con un altro tipo di illuminazione la macchina fotografica deve registrare correttamente e coerentemente l'informazione che c'è sul monitor se no starebbe interpolando falsando e restituendoci un'immagine non veritiera. La macchina fotografica professionale deve restituirci un'immagine veritiera quindi non può arbitrariamente decidere di sovresporre e sottesporre alcune parti della nostra immagine. Per questo motivo nasce la fotografia digitale HDR ovvero nel momento in cui io voglio raggiungere il medesimo obiettivo con una fotocamera quello che faccio è che me le faccio a mano quelle esposizioni in più per cui ovviamente è meglio se lavoro su cavalletto mi faccio 3, 5, 7, 120 foto della stessa identica scena stando esattamente fermo su cavalletto quindi mantenendo la medesima inquadratura faccio tutte le esposizioni che voglio e poi vado a scelarla in post produzione per ottenere esattamente lo stesso risultato che avrei se avessi semplicemente utilizzato lo smartphone. La differenza fondamentale è questa lo smartphone lo fa da solo questo lavoro lo fa automaticamente per noi e ci restituisce una singola immagine già processata per cui ci dà l'illusione che sia tutto rapido e facile in realtà non è così non è rapido e facile nel senso che ci sono voluti anni per arrivare a questo punto ci sono voluti anni di fotografie schifose fatte con cellulari con non solo pochi megapixel ma anche con lentini schifosi poco luminosi con sensori terrificanti immagini piene di rumore le faccia a forma di pixel enormi insomma ci sono voluti anni per arrivare al punto in cui siamo adesso a questo punto i nostri clienti chiunque abbia in mano uno smartphone fondamentalmente crede che fare certe cose sia facile il problema è che nel momento in cui lo vogliamo fare a livello professionale non è più così facile perché la fotocamera non lo fa automaticamente la fotocamera pretende che siamo noi a farlo a questo proposito vi lascio il link un video che ho già realizzato in cui vi faccio vedere come si fa a realizzare delle buone fotografie hdr miscelando appunto le varie esposizioni che abbiamo scattato opportunamente ovviamente è importante azzeccare l'esposizione perché il cellulare lo fa da solo noi con la fotocamera dobbiamo decidere come fare queste esposizioni quindi ovviamente se sbagliamo a catturare il nostro cielo o la nostra terra quindi se abbiamo le luci o le ombre che non hanno una lettura corretta poi il nostro hdr non viene quindi dobbiamo avere una lettura corretta dell'immagine e farla bene perché a quel punto è una cosa artigianale la stiamo facendo a mano mentre con lo smartphone la facciamo in automatico questo è molto importante quantomeno da sapere perché vi dà la consapevolezza se siete degli amatori vi dà la consapevolezza di cosa state facendo sapete che quando fate una cosa con lo smartphone viene già bene mentre se lo fate con la fotocamera dovete essere voi a farlo venire bene il risultato sarà sicuramente premiante nel momento in cui andate a farlo con la fotocamera perché con la fotocamera avremo un'immagine sì più grande ma anche più dettagliata con dei colori migliori perché il cellulare sta facendo molta fatica per mettere insieme quell'immagine hdr il risultato massimo che possiamo ottenere dal cellulare quello l'abbiamo già ottenuto mentre con la fotocamera possiamo in post produzione spingere ancora di più su quel file hdr che otteniamo miscelando le tre esposizioni e quindi possiamo ottenere un'immagine veramente di qualità un'immagine che oltretutto non si limita a un utilizzo social essere postata piccola così su un cellulare per finire dentro in un feed a griglia che tanto poi non lo guarda più nessuno il feed perché ormai le foto su instagram sono belle che morte quindi non è quella roba lì nel momento in cui scattiamo hdr con una macchina fotografica andiamo verso un'altra direzione stiamo pensando alla stampa magari stiamo pensando alla stampa fine art quindi magari vogliamo stamparla grossa così e appendercela su una parete di casa o appenderla in un locale che ce l'ha commissionata o stamparci un fotolibro o stamparci qualsiasi cosa un poster qualunque cosa vi venga in mente possiamo farne un utilizzo differente da quello che è il social media usa e getta di oggigiorno quindi è proprio un'altra cosa ovviamente sta a noi decidere quale delle due cose vogliamo fare perché se siamo in giro a zonzo per la città e vogliamo solo fare una foto del tramonto per fare una storia su instagram usiamo il cellulare viene molto meglio e soprattutto viene meglio a mano istantaneamente senza bisogno di fare fatica se invece vogliamo fare una cosa di qualità di qualità che vada oltre quello schermo piccolo così se vogliamo fare una cosa di qualità perché la vogliamo vedere grande su computer o stampare grande o farci un qualsiasi utilizzo che non sia metterla piccola così dentro in un feed se vogliamo farci qualcosa di più andiamo a farla con una macchina fotografica e quindi lì siamo noi a decidere come miscelare gli ingredienti della ricetta che vogliamo preparare a quel punto possiamo una volta tornati a casa computer ripeto se abbiamo fatto l'esposizione correttamente possiamo creare un'immagine non necessariamente fine art non vi verrà al primo colpo un'immagine fine art però possiamo andare in quella direzione cercare di realizzare qualcosa di più bello di quello che ha fatto il telefonino in automatico qualcosa che automaticamente ci darà anche più soddisfazione perché lo sentiremo più nostro e a quel punto potremmo decidere che utilizzo farne perché no può finire anche sui social media ovviamente però a quel punto sarà una cosa in cui abbiamo messo un pochino più di passione un pochino più di impegno molta più fatica e alla fine la soddisfazione non può che essere una cosa diversa secondo me per cui l'importante è saper discernere quando fare una cosa e quando fare l'altra perché sono il primo a rendermi conto che se siamo in vacanza con moglie e figli magari mettersi lì al tramonto e aspettare 45 minuti per avere la luce giusta continuando a fare scatti su scatti in bracketing per avere la scena perfetta può non essere la situazione ideale lì vogliamo goderci quel momento con i nostri cari allora facciamo quel cavolo di scatto col telefonino e tanti saluti ma viceversa se siamo andati in location 45 minuti prima per avere la luce giusta sistemarci fare tutto quanto a modino a quel punto se catturiamo la scena con la macchina fotografica facciamo una serie di scatti con esposizioni multiple a quel punto una volta tornati a casa abbiamo la possibilità di gestire la scena e fare anche del time blending magari una cosa molto molto divertente sicuramente è una cosa diversa sicuramente è una cosa non da amatori quantomeno non da amatori base è una cosa da amatori già evoluti è un bel gioco se lo facciamo per noi è un bellissimo lavoro se lo facciamo per i nostri clienti l'importante è conoscere le basi di tutta questa teoria di tutta questa tecnologia che tutti i giorni continua a invadere le nostre vite è importante da sapere perché nel momento in cui un cliente ci verrà a dire ma io col cellulare lo faccio meglio dobbiamo sapere che cosa rispondergli bene amici io ho parlato anche troppo a questo punto lascio spazio a voi nei commenti fatemi sapere se avete domande o osservazioni su quanto detto vi ricordo anche che in questo video sto utilizzando questo nuovo device che mi vedete fieramente al collo che è il microfono hollyland lark m1 che ho già recensito sul canale con un video che è già uscito fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere come si sente questo audio io ho messo il ricevitore sopra la mia fotocamera e l'ho attaccato direttamente una cosa che mi sembra veramente molto molto pratica molto smart e che mi consente di avere un po meno ingombro qui davanti adesso vedete qui non ho più non ho più il mio amatissimo blu yeti che mi ingombrava perché qui davanti mi creava un sacco di ingombro quindi sto provando una soluzione di questo tipo anche se non abbandono di certo il blu yeti perché lo so benissimo che la qualità che viene fuori da quel microfono è infinitamente superiore a quella che viene fuori da questo tuttavia chiedo appunto a voi fatemi sapere se percepite una differenza perché a un certo punto se l'unico che nota la differenza sono io in cuffia mentre edito i video e poi voi da casa non la percepite perché state guardando il mio video su un cellulare e quindi la differenza non si percepisce a un certo punto perde di valore anche per me questa cosa quindi parliamo nei commenti fatemelo sapere fatemi sapere anche come scattate se scattate più col cellulare più con la fotocamera se conoscete la tecnica hdr e soprattutto se avete imparato qualcosa con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao